Salve a tutti amici di iSpazio. Per recensire questa custodia ho deciso di fare un piccolo video per farvi vedere come funziona il meccanismo che hanno creato alla Proporta. Si tratta di una custodia disegnata da Ted Baker. Comunque è uno stilista, una casa di moda inglese prettamente che però esporta in tutto il mondo. Questa custodia è in pelle ed è firmata da Ted Baker come dicevamo ed ha una particolarità. Andiamo subito ad aprire la confezione. Possiamo vedere innanzitutto che si tratta di una semplice custodia ad astuccio, chiamiamola così, nella quale potremmo infilare l'iPhone. Le caratteristiche di questa custodia sono innanzitutto è molto morbida ed è una custodia abbastanza fine. Diciamo che la cura nei particolari è molto molto alta ed è di qualità elevata. Possiamo vedere in dettaglio la firma dello stilista e la pelle con la quale è realizzata. Ci sono le cuciture e poi c'è all'interno una piccola fodera che credo si veda poco ma un po' si vede che protegge l'iPhone da graffi. Non è una custodia che ha molte imbottiture, tant'è che ai lati è anche aperta, però ha una particolarità che è proprio questa linguetta che esce dal retro. A cosa serve? Molto semplice. Anzitutto inseriamo l'iPhone nella custodia, ci va abbastanza bene e non rischia di cadere. A cosa serve la linguetta? A fare semplicemente questo movimento. Tac, l'iPhone esce fuori. Io ho avuto un paio di custodie di questo genere, ultimamente le sto usando molto perché io ero più per le custodie rigide, però da quando ho applicato delle pellicole protettive al mio iPhone lo sto apprezzando molto di più perché non cambio la forma originale del prodotto, del telefono. Quindi ho la necessità di utilizzare custodie di questo tipo. Questa è direi geniale, io finora non so se già sono state costruite custodie in questo modo, di questa maniera con questo sistema, ma questo è veramente geniale. Nel momento in cui inserite l'iPhone la linguetta va automaticamente giù e quindi non ci resta che tirarla per avere il nostro telefono. Con l'altra custodia che ho, che utilizzo, questo ho il problema di dover necessariamente o spingere o allargare in questa maniera la custodia per tirare fuori il telefonino. Quindi questa custodia risolve un problema veramente grande. Io mi sento di consigliare questa custodia a chi innanzitutto ama i prodotti alla moda, chiamiamolo così. Comunque i prodotti di un certo livello. È una custodia che protegge in maniera decente l'iPhone, non è né una super custodia protettiva perché non è molto imbottita, né comunque un, diciamo, comunque stiamo usando il telefono senza niente. Comunque protegge i bordi, protegge, diciamo, da graffi. Nel momento in cui mettiamo la custodia in tasca non ci dà nessun problema perché, ripeto, non aggiunge quasi per niente spessore se non ai lati, però non è assolutamente fastidioso. Vi faccio rivedere per l'ultima volta perché è anche divertente l'iPhone come viene via senza problemi. La custodia è acquistabile sul sito Proporta. Ripeto, è firmata da Ted Baker, Baker, Parker, Baker. Ed è acquistabile tramite i link che troverete nell'articolo su WeSpazio dove vedrete questo video. Ciao! 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 Ciao!